Si preannuncia una proforma l'elezione a giugno? Sì, pare di sì, questo non è che mi faccia piacere ovviamente, però evidentemente non sono state trovate persone disponibili a mettere in campo tanto rischio per organizzare il carnevale, perché il carnevale non è una passeggiata, ci sono 20 persone, comunque persone che entrano in consiglio, che rischiano insolido, improprio, che rischiano penalmente, civilmente, quindi posso capire che non è semplice mettere insieme una squadra di persone veramente interessate a questo, perché come dico i rischi sia economici che penali sono tanti. Insomma quindi le polemiche che ci sono state in queste settimane, tanto rumore per nulla? In tutte le elezioni ci sono polemiche, quindi questo penso che sia normale, di conseguenza accettiamo quello che arriva e noi andiamo avanti. Allora adesso espletata questa formalità si pensa già sprombattuto a quella che sarà l'edizione 2020? Ma assolutamente sì, adesso lunedì abbiamo un consiglio che sarà forse il consiglio di chiusura del nostro mandato, poi dovremo ovviamente aspettare il 23 di giugno quando saremo riconfermati per comunque prendere delle decisioni in consiglio, noi nel frattempo logicamente possiamo comunque andare avanti e pensare al nuovo carnevale. Questa gestione, se possiamo tracciare una definizione, questo primo mandato come lo giudica dal suo punto di vista? Ma diciamo che i primi due anni soprattutto sono stati faticosissimi a livello emotivo, a livello psicologico, perché comunque come avete visto ci è capitato tutto, abbiamo avuto soprattutto il primo anno tutti contro e quindi siamo veramente andati dritti verso la meta da soli negli ultimi mesi e l'ultimo carnevale finalmente ci ha dato ragione a livello economico, a livello di interesse del pubblico, a livello di manifestazioni, di qualità della manifestazione che è tanto cresciuta, quindi di questo sono molto contenta. Ecco, quindi è per questo che abbiamo tenuto a cambiare il modus operandi delle votazioni che fino a oggi, a ieri, era di uso, perché abbiamo capito che se per 50 anni in carnevalesca si davano le coltellate non era corretto questo e quindi abbiamo cercato di trovare un modo di votazione che creasse un gruppo in dirigenza più sereno. Poi se dopo tre anni i cittadini non apprezzano quello che si è fatto, si cambia, non c'è nessun problema, questa è la democrazia.